Chiatta, io invece la ricetta di potassi. Sei pronto già? Sì, sì, già. Allora, intanto mettiamo il misuratore e la chirurgia, perché prima vuoi fare questo qua. Vediamo, proviamo a fare una carica sana. Allora, ognuno di queste 800 grammi. È meglio che tu metti questa sola. No, è perché mi fa la perolise da sotto, invece me la chiede a fare qui a sotto, capisci? Ma la perolise che sarebbe? 800 grammi, basta. Che vuole dire perolise? Per le fiamme. È la gassificazione, no? Cioè, praticamente non brucia il pellet, ma fa diventare carbone. Quindi gli brucia solo il gas. 800, 800 fanno 1.000 kg. E poi lo fai cucinare. Basta, non c'è ne mento il kg. 1.000 kg, aspetta, io infatti ammocciare la parte sotto. Io quasi quasi, 1.000 kg, 2.500 kg. Siamo a 2.400 kg. Penso che abbassano. Che abbassano, 2.400 kg. Anche per chi sa stuta domani a mattino ora. Ma poi io stuto, io, guarda, io stiamo mettendo 800 grammi, tanto per farà 2.500 kg. 2.500 kg, va bene? A me, 2.500 kg. 2.500 kg dipende. Cosa ne pensa lei, signora Pistorio? Di tutto questo? Io mi sento stanco, non lo mento. Signor Gatto, lei cosa pensa? Vieni, signor Gatto. Allora, vai accendertelo. Vai accendertelo. E un po' di cera. E un po' di cera, così. Poi dopo c'è lontaniamo. Vabbè, accendi la candela e i ciaietti. Certo. Mi ruolo un spiro di una ferita. L'aria qua è chiusa, ora la faccio. Questi sono 2.500 kg adesso. Tu, il perroteraggio già è fotte. Ci sento scuscio. Ancora chi sta in mente? Ancora è... Dopo accendere. Il tuo prima brucia. Fa la miccia, diciamo, tutte queste cose. E poi dopo... Dopo a fare la perola, lì, si la fa dopo. La tenda di carboni? Sì, però ne esce la fiamma. Nesce qua di lato, guarda. Perché per com'ora sta piegando da sotto la regia, no? E sta cercando di innescare. Guarda, sta bugiando per l'effetto do... do spirito. Do spirito. Sì, sì. Ancora quei rupelli a tenere domate, ancora, buono po'. Guarda, sta cominciando a domate, guarda. No, perché non è facile. Rispetto ai tuoi, è troppo combattuto per l'effetto. Questa carta non si può domare? Non è complicato. Non è complicato. In generale, loro ci mettono un po' di paraffine a pezzo a pezzo, no? Per tenere poi la fiamma, per domate che... Infatti, quando c'è una mese, ho 900 grammi, guarda. Prendiamo l'aria che ho tirato a domate subito, più facilmente. Qua invece... Però se tu a domate... Non conviene perché da intra, non c'è ossigeno poi, capiste? Non è come se fosse tu stessi tante linee a mezzo fuoco. Infatti tu vedrai ora cenere, non ne vedrai. La cenere è quando c'è troppo ossigeno e brucia. Quindi consuma, magari, magari... Vedi che è diventato il carbone, già chiedi? Ora, man mano da sopra, diventano il carbone e poi il carbone comincia a scendere verso sotto. Ora, appena idri fa la fiamma buona, io ci metto il cappuccio da sopra. Aspetta che gli stuccava, che pareggia un po'. Eh, sì. Sposta, lo sposta. Questo qua, se cominciamo, diamo le venti, fa una fiammone enorme. Sposta, rimina, se non c'è... No, 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 non c'è toccare qui, Fabio, se non c'è... Se per esempio non... Se stuta, usavo fumo che fa... Perché non c'è ossigeno là dentro. Allora, più sempre, che già aiuta la fiamma... Falla addomare ancora, Anza, Tenice, quando piglia fuoco da... Ma bene, non c'è, come potremmo fare addomare? Questo, siccome c'è più carica, c'è sempre addomare tutto. Però appena addomare, sai che fiamma che fa? Ma tu volendo potresti fare magari chi non? Certo, per arrivare no. No, qui non c'è i buchi, non c'è più sotto la fiamma. Sotto, perché da sopra poi ce ne escono i fiammi. Questa è la piccola, appena... Anzi, questa è la monocamera, ce ne sono qui la doppia camera. L'area secondaria, l'area secondaria, c'è già da qua, di buchi da qua sopra. L'area primaria c'è già da sotto. Lui ha potuto domare cacere di labi? Sì, cacere di labi, infatti. Però è un peccato, questo c'è da tinta, che non si può. Ma domava. Ma già domava, ora c'è ci misura due chilo e mezzo di pellet. Questa per due ore e mezza, tre ore, tu c'hai i calori. Ma è ricchissario. Ma è ricchissario, perché praticamente a capo a rovare io due chilo e mezzo, posso rovare fosse tre chilo e mezzo. Perché questo è 45 centimetri. Che gioco progettavo? L'avevo fatto di 60 centimetri. Io il tubo non ce l'avevo di 60 centimetri. Quindi lo faccio io più. Però il diametro è uguale. Allora, come stiamo, guarda, aumenta sempre che stai a ria. E ora, fra un po' inizio della perolisa. Ancora è presto. Ora ci metto un po' di stucca. Io tu, però, attenzione. Fai la pallacumare. Stai facendo? Sì, sì. No, no. Ma ora non ci vuoi cucinare di sopra. Sì, sì. Ora, infatti, poi ci farò una cosa, una griglia, come si chiama, un po' di pignata. Ora vedrai che fra un po' la perolisa nesce da sopra. Cioè, la fata che ci sono quei buchi. Perché io l'ho chiuso sotto. Io dico, per comare, ma sta facendo di sotto. Stavo a vedere perché è basso. E l'aria ne piglia che stai a premare. E che stai a fare, man mano, la fiamma è vista a nesce da sopra. Sono a sei minuti e passa. Questa è sette minuti. Ora, si può chiudere un po' con l'aria. Allora, per fare la stufa, ecco, non ti più. Qui c'è abbastanza l'aria. Ora, io adesso ne ho già sentito l'aria, la cosa, la fiamma. E comincia a nescere, la vista nesce da sopra. Nesce su due buchi. Ma vuoi vedere che il fumo non sta facendo? E' bestiale. Alla fine. Io posso fare magari con il carbone, no? Puoi fare come vuoi, il carbone, l'igna. No, non mi capiste. Tra l'igna fanno un po' di fumo sottetto. Non mi capiste, io lo canigra, se non hai un pelletto, ci posso mettere il carbone. Sì, ma di com'è, mescare un po' per dire cose che bruciano subito. Questo è più facile. Guarda, guarda, le fiamme stanno uscendo dai buchi. Ancora comincia la pirolisi. Ora la pirolisi che fa? Da intra non c'è più ossigeno. Allora, che succede? Che fiamma sta facendo? E' bestiale, ci guida tutta l'aria, guarda. Ora c'è abbastanza il ruolo. In modo che non si consuma facilmente il pelletto. Deve, diciamo, curare. Guarda, c'è l'ecchio, sono tutte. Ci metto a nicchia l'aria. Guarda, comunque, dove ne esce? Vedi i buchi? Sì, vediamo. Poi ci sono i buchi dei 6 centimetri, i primi tutti, che non si vedono. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Allora, vedi ora che l'idea si è chiamata perché c'era tutto l'ossigeno di sotto. L'idea si è a consumare a basso regime, la fiamma resta di sotto e lo consumo piano piano. Però non sta facendo fumo perché se tu ci devi un po' di assigeno, si sta a cominciare a fare fumo. Vuoi dire che devi andare con il tuo carbone? Tu il cenere bianco non lo vedrai. Lo sto staccando, ok? Sì, vabbè, puoi staccarlo per me.